Come si tratta di andare a riscaldare la casa? Il nostro sistema è un sistema completo, software e hardware per creare questa rede e per gestirla tramite un'interfaccia grafica molto semplificata, una sorta di social network per gli oggetti. Questo è il nostro board, è il cuore pulsante del sistema, è lei che ospita il sistema operativo ed è in grado di far comunicare e creare sinergia tra gli oggetti, ciò che oggi non c'è. Il genere si realizza partendo dall'idea e usando le nuove tecnologie che ti permettono sviluppi semplificati a un pezzo basso. Il caso più grande è quello dell'Arduino che permette di usare mini intelligenze a costi bassi con una programmazione molto semplice.